Nel senso temporale, perché abbiamo faticato specialmente nei primi giorni, tantissimo, dormevamo veramente, per i primi quattro giorni abbiamo dormito non più di tre ore a notte, perché eravamo in collegamento di apportato con dei colleghi che erano in Brasile e all'Università della Florida. Perché questo? Perché le analisi che facciamo noi sono molto complicate dal punto di vista del time consuming, cioè ci vuole molto tempo per poter avere dei risultati che siano credibili, di cui fidarsi. Dividendo però il lavoro in tre, diciamo che siamo riusciti a fare in tre giorni, quattro, quello che normalmente si fa in due mesi, a costi zero, perché non avendo noi fondi di ricerca per fare questo tipo, per affrontare al conto questo tipo di epidemia, diciamo, l'abbiamo affrontata con i nostri mezzi. L'unica spesa che abbiamo un è stata la nostra salubrità mentale, perché abbiamo dovuto discutere non poco i risultati e il nostro tempo, ma diciamo che l'abbiamo speso bene poi alla fine.